Carol of the Drum Carol of the Drum è una canzone scritta ispirata al Natale che ha una sua poesia e un suo messaggio molto simpatico un bambino viene al presepe ma non sa cosa regalare a Gesù Bambino non ha l'oro dei magi o l'incenso o la mirra ma ha un suo tamburino e quindi andando davanti a Gesù suona il suo tamburino e tutti si mettono a cantare con lui anche l'asino e il bue anche Maria e anche Gesù Bambino I bambini amano il Natale istintivamente per loro Gesù Bambino è un collega, è un compagno di giochi e quindi questo tamburino che suona il suo strumento davanti a Gesù nel presepe rappresenta un po' tutti i bambini che si esprimono come possono davanti a Gesù e sicuramente sono accolti e amati proprio per questo in maniera particolare dal Signore L'offerta di un bambino al re dei re, cosa avrà pensato Maria, cosa avrà pensato Giuseppe? Certamente lo stupore, sicuramente Maria ha raccolto straordinarie esperienze soprattutto in quei momenti e forse non le comprendeva fino in fondo ma le conservava come momenti di luce e di gioia che in seguito, dopo la resurrezione, avrà compreso pienamente Grazie Grazie, mandiamo un saluto con questo applauso a Monsignor Fisina che è il direttore del Coroio della Giorgia Sì di Roma Grazie